Perché la 52 è già terminata, tutto il resto siamo proprio agli sgocci. Eh sì. Questa sapevo essere una proposta, insomma, piaciuta molto. Sì, perché, allora, aveva avuto comunque già un grande riscontro quando è stato presentato la prima volta in Adesso è Moda, durante proprio la settimana, credo, del fashion event. E il prezzo comunque con il quale è stato proposto la prima volta valeva tutto il capo in estere. Adesso che comunque è stato proposto anche come one day holly, caspita, cioè non ci sono, non ci devono essere dubbi. No, qui non ci devono essere dubbi. Proprio non abbiate dubbi perché state ordinando un capo meraviglioso, veramente bello. Qui da prendere al volo a questo prezzo, con questo risparmio, proprio da mettere subito nel carrello 31 euro di risparmio. Tanto vi ricordo che avete la prova dei 30 giorni, anche qui la vestibilità è una vestibilità regolare, cioè se avete una 42, io indosso la 42 ed è precisa. Ed è perfetta, sì, assolutamente sì, perché comunque è generoso anche proprio nel taglio e nel tessuto. Che bello! Proprio perché deve essere fluido. Sì, sì. Io, peccato che non l'avete fatto anche in altri colori, perché è veramente stupido. Grazie. Grazie.